L'ente Capaccese, guidato dal sindaco Franco Alfieri, investe sulla tecnologia per il risparmio della carta e lo fa attraverso l'acquisto di 30 tablet con sistema Android dotati di cover ed accessori. I dispositivi saranno utilizzati dagli amministratori comunali durante i consigli e le giunte comunali. Grazie all'utilizzo dei tablet si potrà consentire agli amministratori di ricevere e inviare documenti tramite posta certificata e partecipare a riunioni, consigli e giunte comunali nonché conferenze nel rispetto delle normative anti-covid-19 in quanto garantirà il divieto di assembramento garantendo l'incolumità di tutti i partecipanti.